Tra i vini che hanno riscosso grande successo e visibilità alla Vinitaly di Verona, conclusosi mercoledì, c'è anche il Burson, il vino vitigno autoctono che fa parte della tradizione della Romagna, del consorzio il Bagnacavallo. Sentiamo quali menzioni ha guadagnato. Sono con Max Randi, titolare dell'azienda agricola Randi, che esibisce giustamente con orgoglio il diploma di gran menzione perché il suo Burson 2009 ha vinto al Vinitaly uno dei tanti diplomi in palio. Direi un grande riconoscimento per il lavoro che state facendo e anche per la qualità di un vino Burson che sempre più si sta imponendo all'attenzione. Sì, lo espongo con grande orgoglio perché è la prima volta che mi succede, quindi come tutte le prime volte è sempre una soddisfazione. In questo caso il Burson 2009 è la prossima annata che a breve verrà commercializzata, stiamo chiudendo benissimo con il 2008, ma il 2009 si è presentato in maniera altrettanto interessante. È l'unico romagnolo in questa categoria, era circondato da grandissimi vini venditi piemontesi, quindi una soddisfazione ancora più grande sicuramente. La qualità di questo vino in questi anni si sta ampliando sicuramente e sta raggiungendo sempre passo dopo passo livelli superiori.